meravigliosa creatura che non sei altro non sei altro che una meravigliosa creatura otto maggio 2023 ora è primavera sta facendo il suo bel lavoro molto intenso quest'anno cioè quello di trasformare l'energia questa forza primordiale di trasformarla in un'energia molto attiva no che cresce che va verso l'alto lo vediamo intorno a noi c'è una natura che sta esplodendo però una volta che la primavera ha finito la sua opera poi tocca all'estate e la primavera si riposa ci penserà dopo un anno a riattivarsi così ugualmente l'estate l'autunno e l'inverno così come la mattina la mattina fa il suo lavoro poi tocca al mezzogiorno alla sera e alla notte ma la mattina si rivede il giorno dopo a un certo punto ha finito la sua opera si riposa non è così per le mezze stagioni la mezza stagione arriva sempre per poter aiutare no alla primavera ad entrare a trasformarsi in estate così ugualmente subentra nel momento in cui l'estate deve essere trasportata nel nell'autunno e via di seguito perciò la mezza stagione durante l'anno non si può riposare un granché così ugualmente durante il giorno finita la mattina subentra questa energia che supporta che sostiene che media e porta la mattina nel mezzogiorno così poi dal mezzogiorno al pomeriggio al pomeriggio alla sera la sera alla notte e questo nella medicina tradizionale cinese cioè nella mutazione dell'energia nelle cinque mutamenti dell'energia questo elemento si chiama terra si chiama terra e come già sa che mi segue nei miei pipponi nei miei corsi sulla numerologia del chiede le nove stelle sa già che l'elemento terra impersonifica proprio attraverso dei numeri attraverso questi numeri entra direttamente nella manifestazione che le persone hanno di esprimersi e di avere un ruolo anche nella società per quello che chi ha numeri all'interno della propria terna che fanno riferimento a questo elemento non potrà mai sentire quella quel tipo di riposo no che può sentire una persona che è totalmente primavera che è totalmente estate che totalmente inverno che a certo punto va bene ok io il mio ruolo l'ho fatto ora tocca a te no l'elemento terra si sente sempre in dovere di dover manifestare qualcosa deve sempre essere lì e a essere da ponte tra una situazione ed un'altra da ponte tra una persona ed un'altra l'elemento terra è un movimento dell'energia circolatorio circola tra le cose si sentirà sempre chiamato a dover intervenire in determinate situazioni come arbitro come mediatore come ponte allora quando questa manifestazione naturale che vediamo nella natura che ci circonda si trasforma si immette proprio all'interno di una persona che ha attraverso poi calcoli numerologici e secondo di quando quando è nato di seconda di quando ha scelto di nascere la propria anima per essere quel tipo no per esprimere attraverso i suoi modi di essere di fare di pensare di emozionarsi l'elemento terra ecco che proprio la persona è lì si sentirà sempre in qualche maniera in una specie di agitazione no ecco che sono chiamato in causa ecco che devo agire ecco che sono chiamato ad azionarmi in questa situazione e circola 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 la persona che circola circola continuamente nel chiedere nove stelle i tre numeri corrispondenti all'elemento terra sono il 2 il 5 e l'8 per l'appunto una persona che nasce oggi che è l'otto maggio 2023 che nasce oggi già dal numero di nascita già il numero di nascita funziona come una vibrazione cioè quella persona che nasce oggi chi nasce l'otto il 17 il 26 di un mese sarà indotto indotto proprio a manifestare questo tipo di energia questo tipo di elemento circolante e lotto soprattutto che la parte maschile dell'elemento terra l'elemento terra ha una parte femminile che il 2 la parte maschile che il 2 poi il 5 rappresenta un po il 2 e l'otto messi insieme no una specie di di tao bene chi nasce oggi tenderà ad essere una persona terra e soprattutto lotto manifesterà sempre un grande senso di giustizia un forte senso di giustizia che può essere veramente problematico sia per se stesso perché poi alla fine la reazione ad un squilibrio della giustizia fa sì che il numero 8 si azioni il numero 8 è proprio il numero dei delle forze dell'ordine dei carabinieri poliziotti soldati dei magistrati per quello che chi è il numero 8 innanzitutto vorrà sempre essere mediatore per far sì che la bilancia del bene e del male si rimetta in equilibrio appena lotto vede che c'è uno squilibrio ecco che interviene ma lotto è anche riservato taciturno quella tipica persona a cui piace mostrarsi ma si mostra in tutta la sua potenza nei momenti di forte ingiustizia lotto è isolamento ritiro proprio perché in questo sistema del chi delle nove stelle lotto ogni numero c'è un'immagine a un'immagine correlata l'immagine dell'otto è la montagna e la montagna è proprio il simbolo del ritiro il simbolo dell'isolamento la montagna è anche simbolo di stabilità di ostinazione è la persona poi quando prende una decisione difficile fargli cambiare idea diventa proprio come una montagna lo stare fermi lo stare fermi di questi ultimi anni è venuto proprio da questa necessità di essere otto di essere forti determinati non ci siamo mostri di un millimetro l'energia che ci ha dato supporto è stata proprio questa e non è un caso è che non è la prima volta che lo dico che la meravigliosa creatura di michele che è nato di giorno otto del giorno otto che è nato proprio in un anno che gli dà questa terna tutto otto ecco non è un caso che sia venuto proprio da lui lo stare fermi l'otto è proprio determinazione è la parte maschile della terra se il 2 essendo la parte femminile esprime l'accoglienza la ricettività la compassione la comprensione ecco che invece l'otto rappresenta la forza la forza maschile dell'elemento terra ma entrambi sono circolanti entrambi supportano sostengono sostengono resettano se c'è diciamo richiesta di dover resettare anche attraverso dei terremoti parliamo di elemento terra parliamo di terra e la manifestazione dell'elemento terra nella natura arriva anche attraverso i terremoti attraverso la terra proprio no che si muove per quello che una persona che ha all'interno questi numeri è indotta proprio a circolare tra le cose a circolare tra le persone a metterle insieme e non troverà mai il tempo di riposarsi non troverà mai il tempo di riposarsi però logicamente al proprio interno c'è anche una grande forza all'interno di questa persona che la natura gli ha dato per poter sostenere gli altri la numerologia è qualcosa di straordinario straordinario proprio sono vibrazioni come una persona vibra no e ogni persona ha un suo ruolo un suo ruolo io uso la numerologia al sol scopo no di ridare agli altri ciò che la numerologia ha dato a me cioè una profonda comprensione del fatto che ogni persona che incontri per strada ogni persona che hai e che abita insieme a te a casa manifesta manifesta la natura la natura manifesta è una manifestazione naturale così come puoi vedere un tuono che arriva che fra fa presagire l'arrivo di un temporale così è anche una persona quando urla grida e sbraita perché sta manifestando la sua rabbia la sua collera è così come quando c'è una manifestazione da parte di una persona una volta che si ha questa comprensione si riesce non più a vedere la persona perciò la maschera che quella entità sta mettendo per manifestare una determinata cosa ma si sta osservando nient'altro che la manifestazione della natura uguale uguale e allora in questa in questa continua visione di una persona che manifesta la natura si è sempre connessi con la natura è la tipica goccia che scava la roccia è un continuo lavoro giornaliero quotidiano che dà a noi stessi la possibilità di illuminarci di essere sempre più persone illuminate e badate bene che questo nuovo periodo periodo che stiamo attraversando questa grande trasformazione in atto ci sta richiedendo di essere illuminati e quel tipo di illuminazione portarla nel ruolo che abbiamo nella società non dobbiamo per forza tutti essere dei pittori dei musicisti dei poeti ma portare la poesia all'interno delle cose che facciamo e per cui siamo predisposti a fare il talento che abbiamo nel far girare la società come non è possibile che tutti diventino musicisti pittori e poeti ciò ognuno di noi dovrebbe lavorare ad una illuminazione interiore non per sedersi sotto un albero e ricevere i propri discepoli ma per portare questa illuminazione nel ruolo che hai nella società e per portare sempre di più anche creatività all'interno del ruolo che hai nella società la creatività può essere espressa anche in un ufficio anche dentro la burocrazia e allora questa comprensione questa compassione anche nel vedere la persona di fronte a te come una manifestazione naturale e non come una stimolazione al tuo giudizio che ti fa perdere energie continuamente che ti scolla continuamente da quella che è in realtà la vita cioè una bellezza una nazione di bellezza tremenda tremenda io porto questo insegnamento continuo per dare l'opportunità l'opportunità a tutti di esperire la bellezza della vita per quello che chi è nato oggi tanti auguri per questa nuova vita sarà una persona otto forte determinata riservata riservata che agisce nel momento in cui deve agire la persona profonda portata alla contemplazione portata sia all'isolamento al ritiro ma in quella contemplazione in quel ritiro nella montagna ecco che il lotto trasforma se stesso per trasformare gli altri non può assolutamente trasformare gli altri per trasformare se stesso lotto è proprio simbolo di trasformazione e noi siamo qui tutti figli di un otto state fermi state fermi meravigliose creature voglio finire questo pippone sul numero otto mandando un caro saluto a Rita Pascotto al compagno lucio a tutta la sua famiglia che ci ha ci hanno accolto in questi tre giorni in cui io e Laura abbiamo organizzato all'interno della struttura agriturismo la giara a beverino in provincia di la spezza andate a trovarla andateci a fare una vacanza abbiamo organizzato questi giorni e ci hanno accolto veramente non so come dire un'emozione incredibile un'emozione superiore con un'emozione superiore un caro saluto a tutte le meravigliose creature che hanno partecipato in questi tre giorni in cui siamo stati insieme abbiamo condiviso le nostre esperienze la nostra storia degli ultimi anni ma anche condiviso le energie fatto proprio circolare circolare questa energia meravigliosa con piccole pratiche abbiamo festeggiato il vesac abbiamo fatto una piccola pratica una danza sacra ma non più di tanto le vacanze che organizziamo io e Laura sono proprio vacanze per condividere per stare insieme in leggerezza e siamo stati veramente bene un caro saluto a Franca, Patrizia, Catiuscia, Paola e Carmine, Paola, Alessandro e la piccola Alicetta principessa che non è altro Simona e Renzo wow meravigliose creature grazie di essere state con noi di aver condiviso con noi questa meravigliosa esperienza siamo stati a Portovenere siamo stati in un santuario abbiamo visto un panorama mozzafiato da questo santuario un panorama sulle cinque terre cercate di tapascotto chiedete gli amicizie andate a vedere agriturismo la giara un luogo di esseri solari che meritano proprio di meritano proprio una nostra visita ok grazie ancora grazie a te meravigliosa creatura che sei stata fino ad ora a sentirmi ad ascoltarmi con la tua preziosissima attenzione e che dire come sempre forza amore coraggio e volontà